Ciao a tutti ragazzi, questo è Rallonfire e in questo video è un video nel quale vi descrivo gli aspetti principali del nuovo pacchetto di espansione di Battlefield 3 che è Aftermath. In questo pacchetto ci saranno altre 4 nuove mappe che saranno tutte basate su su cittadine post terremoto, quindi tutte distrutte e soggette anche a terremoti durante il gioco e principalmente, cioè alcune di queste saranno l'epicentro, la zona d'epicentro del terremoto e il mercato centrale che si può vedere anche nella campagna in singolo. L'innovazione più grande sarà data dall'introduzione della balestra che appunto sarà uno degli elementi principali di questa nuova espansione e che darà la possibilità di utilizzarne 4 tipologie diverse. La prima, come potete vedere, è quella fatta, viene detta standard, che è quella che ha un alto contenuto di danno e un alto contenuto di danno e però va utilizzata a corto e medio raggio. e come vedete, credo che l'omino che la utilizzi sia un geniere. Non so se saranno divise per classi ma credo probabilmente ce ne sarà una per ogni classi, in quanto quella che dopo potete visualizzare nel video che vi metterò alla fine, è quella che viene detta dello scambolt ovvero è la balestra che spara una freccia che ha un radar attaccato e quella utilizzata appunto dagli sniper, dai cecchini, è una freccia che appunto ha un radar che mostra i nemici nel raggio di 10 metri dall'impatto, cioè dall'impatto da quando viene, da quando colpisce il bersaglio. Abbiamo poi quella balanced, quindi quella balanciata che può essere sparata a lungo raggio e è stabile e si può utilizzare anche a medio raggio. E' appunto più debole però della prima, ma è più stabile e ha maggiore stabilità e maggior portata. L'ultima invece, forse quella più interessante, è quella esplosiva. Infatti questa è una balestra che ha le frecce con attaccato l'esplosivo sopra. Ha un alto potenziale di danno, è una piccola esplosione e è molto più forte a corto raggio in quanto il peso probabilmente dell'esplosivo non consente di arrivare a lunghe distanze e comunque è più difficile da utilizzare a lunghe distanze in quanto come tocca qualcosa esplode. Quindi queste sono le quattro tipologie di balestra che saranno sicuramente uno degli aspetti più interessanti di Aftermath e dell'espansione e della giocabilità in generale di Battlefield 3 dopo questa espansione. Poi ci saranno le introduzioni tra i nuovi veicoli che però non sono ancora stati descritti da DICE o comunque non sono stati ancora rivelati. E poi ci sarà una nuova modalità di gioco che viene chiamata modalità spazzino nel quale è una conquista con un obiettivo nel quale dei soldati vengono dispersi e vengono armati solo di una pistola e devono praticamente prelustrare una zona quindi in giro durante la mappa per trovare armi più potenti e aumentare la loro possibilità di sopravvivere contro quegli altri. E questa si preannuncia una modalità molto interessante in quanto aumenterà sicuramente la difficoltà di gioco e è appunto una cosa abbastanza innovativa rispetto agli altri pacchetti di espansione e queste tipologie di gioco in generale. Il pacchetto sarà disponibile per i membri Battlefield 3 Premium con due settimane d'anticipo e per chi ha PlayStation 3 sarà disponibile il 27 novembre e mentre per chi ha PC Xbox 360 il 4 dicembre. Per chi invece è un utente non premium saranno disponibili rispettivamente l'11 e il 18 dicembre. Il pacchetto verrà a costare 15 euro e quindi si rimane sulla media di tutti gli altri pacchetti di espansione. Dopo questo video vi lascerò come ho ripetuto prima il video del gameplay che era presente nella sezione dei video di Battlefield 3 Premium che ho e nel quale potete vedere un po' l'utilizzo delle balestre e alcune parti delle mappe. Questo dal video almeno io penso personalmente che sarà un'ottima espansione e che sicuramente ci saranno delle cose innovative come ho già detto prima con questa nuova modalità e con l'utilizzo delle balestre. starà poi a vedere se tutte queste innovazioni saranno ben sfruttate in queste mappe. A voi lascio la possibilità di dirmi cosa ne pensate e se vi è piaciuta questa grande spiegazione diciamo mettete un bel mi piace e condividete. Questo era Aftermath e quando uscirà sicuramente lo avrò perché ho la premium come ho già detto e quindi magari vi farò vedere qualcosa. adio ralla bo bambino 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione!